ciao a tutti benvenuti oggi andiamo a vedere l'oroscopo settimanale 9 15 novembre 2020 qui vediamo in cielo un po una guerra stellare diciamo che venere e marte si scontrano fra la riete fra il segno della riete e quello della bilancia quindi qui per tutto ciò che concerne gli amori gli affetti ma anche oserei dire io i rapporti interpersonali con l'altro sesso con il sesso a noi opposto qui ne vedremo delle belle andremo poi interrogare anche ai tarocchi guardati il video del tuo segno zodiacale del tuo segno ascendente e per quello in cui hai la luna per avere una previsione settimanale molto più accurata partiamo con il video ciao caro cari cari amici vergine andiamo a vedere per voi la settimana dal 9 al 15 novembre 2020 allora astrologicamente parlando qui c'è un bellissimo mercurio che entra nel segno a te amico dello scorpione questo verso diciamo mercoledì fra mercoledì giovedì insomma quei giorni lì poi marte sta camminando a in modo ancora retrogrado a dire il vero fino a domenica nel segno della riete e l'avvenere nel segno della bilancia dunque facendo uno shake diciamo mettendo un po tutto insieme qui vedo dei contatti degli incontri o comunque delle comunicazioni molto molto carine in special modo con il sesso femminile quindi magari con le tue amiche piuttosto con tutto ciò che è donna l'universo femminile potresti decidere di regalarti qualcosa di prezioso potresti andare dalla parrucchiera dall'estetista metterti a dieta curare di più la sua immagine una cremina particolare insomma tutto ciò che è femmina e tutto ciò che è l'universo l'estetica la bellezza ecco potresti regalarti qualcosa di questo tipo quindi che sia andare dall'estetista che sia prenderti cura di te che sia truccarti o vestirti in modo diverso insomma tutto ciò rientra in ciò che ti voglio dire ok ci potrebbero essere delle comunicazioni interessanti quindi qualcuno che può farsi vivo insomma il parlare quindi contatti molti contatti persone che ti ammireranno e bla 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 vediamo i tarocchi cosa aggiungono a questo quadro insomma mi pare abbastanza positivo allora andiamo a vedere cosa accadrà per il segno zodiacale della vergine eccolo qua qui si parte allora quali saranno invece gli ostacoli per questo segno zodiacale durante la settimana vediamo quali saranno gli ostacoli per il segno della vergine durante la settimana ok cosa sta per accadere quindi a questo segno zodiacale cosa sta per accadere al segno della vergine quale sarà l'evoluzione di questa situazione come volverà qual è quindi il nocciolo il sunto il succo della settimana per il segno della vergine allora beh direi niente male in special modo per quanto riguarda il settore lavorativo e il settore denaro e non avevo dubbi visti anche i transiti ok vista l'astrologia allora qui c'è una settimana che parte niente male allora qui ti vedo molto alle prese con un qualcosa di pratico qui la vergine sta curando qualcosa qui vedo delle trattative non so se con qualcuno o se stai come ti posso dire ti stai impegnando in qualcosa per espanderlo per farlo crescere ti vedo alle prese con un qualcosa come ti posso dire che stai seminando già da tempo ancora ti vedo un po in inoli come dire ancora tutto sto raccolto non c'è però sembri sulla strada giusta ed effettivamente lui qualcosa di positivo un qualcosa di più in qualcosa in più di più dovrebbe arrivare durante questa settimana per la vergine ok qui ci vedo dei soldini ti vedo lavorare qui c'è il lavoro il lavoro che potrebbe prendere un via molto positivo comunque se fosse stato rallentato riprende se non era rallentato semplicemente aumenta qui vedo il crescere la crescita di qualcosa ti sei dato da fare e i frutti arriveranno iniziano ad arrivare mettiamola così ora poi dopo andiamo ad ampliare andiamo a chiedere va bene ci sono qui anche delle notizie delle comunicazioni che ti arriveranno che ti faranno piacere perché qui vedo un qualcosa un qualcuno di importante che arriva il lavoro se stai lavorando che aumenta e cresce se non ce l'hai arriva questo è un po masuro quindi anche questo vedo da da queste carte vediamo un pochino poi andiamo a chiedere agli altri tarocchi andiamo a chiedere esattamente che cosa ci vogliono significare per la settimana voglio vedere però con quali segni zodiacali avrà a che fare la vergine durante questa settimana così magari puoi riconoscere qualcuno non lo so poi fammi sapere naturalmente allora vediamo qui c'è subito il segno della bilancia e quello a lei opposto dell'ariete quindi ariete e bilancia con quali segni zodiacali no dai su allora qui c'è il capricorno il sagittario il cancro lo scorpione praticamente tutti il toro il toro viene confermato un'altra volta il sagittario viene riconfermato l'acquario l'avevamo detto no allora ve lo dico adesso il segno dell'acquario e il capricorno viene riconfermato quindi credevo peggio insomma credevo peggio e i pesci ma gli ho visti ce li devo pure mettere comunque pesci capricorno toro bilancia sagittario acquario ariete cancro scorpione quindi vedi tu a chi ti ti fanno pensare questi segni zodiacali anche come ascendente naturalmente e poi fammi fammi sapere che situazione che situazione hai qui c'è un qualcosa in arrivo sicuramente di interessante di carino è un qualcosa anche che va a crescere un qualcosa che però la vergine secondo me ha già seminato ha fatto proprio i semini di pollicino avete presente no ecco quindi questo vedono le carte andiamo a vedere che cosa intendete vediamo per il segno della vergine dal 9 al 15 di novembre vediamo ma guarda esatto quello che mi viene da pensare qui diciamo che qualcuno o più di uno diciamo ma qualcuno si accorgerà del tuo lavoro di ciò che hai fatto per esempio non lo so lavori da qualche parte ti sei dato tanto da fare perché come vi ho detto la vergine ha già seminato sta aspettando di raccogliere i frutti di tutta questa semina di tutto il lavoro che ha fatto lavoro in senso vero e senso lato anche di un qualcosa che avete fatto capito avete buttato diciamo così semini e adesso aspettate di raccogliere qui qualcuno si accorgerà se c'è stato un qualcuno che non si è accorto di questo vostro sforzo fra virgolette state tranquilli che durante questa settimana qui cominceranno ad accorgersi di quello che avete fatto lo sto dicendo nel senso positivo del termine capito andiamo a vedere esattamente qui c'è proprio la soddisfazione questa sarà una settimana soddisfacente guarda anche dal punto di vista lavorativo e o affettivo qualcosa di positivo arriva che siano più clienti che sia più fama che sia capito c'è una situazione che volge al positivo alla crescita di un qualcosa per cui vi siete dati da fare va bene vergine quindi fammi sapere nei commenti mi raccomando un bacione alla prossima ciao ciao